Cari telespettatori di Rossini TV, oggi mi trovo a Pesaro, per la precisione sono in zona Tombaccia in via Arezzo 8 e siamo qui con le telecamere di Rossini TV per l'inaugurazione di AquaSelf. AquaSelf, distributore di acque minerali, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Avremo modo quindi di acquistare non solo acqua ma anche altri prodotti, un nuovo modo innovativo di fare la spesa, i nostri acquisti, evitando magari le file al supermercato, non solo un modo innovativo ma anche e soprattutto veloce ed economico. In questo contesto abbiamo AquaSelf 24 che è il nostro marchio registrato, dove abbiamo più di 20 punti vendita con questo logo qua, più altri con altri loghi in giro per l'Italia, abbiamo più di 40 punti vendita in tutta Italia, in circa 8-9 regioni d'Italia. E qui oggi finalmente siamo a Pesaro, che sono diversi anni che cerchiamo un locale e finalmente abbiamo trovato un locale insieme ad un nostro cliente. E qui adesso oggi vediamo l'inaugurazione in via Arezzo 8 e abbiamo un macchinario di ultima generazione dove ci stanno, in questa macchina sono 35 corsie dove ci stanno circa 1200 pacchi come alloggio e abbiamo diversi loghi in questo caso, dai più blasonati che sono Sant'Anna, Levissima, Eva, Lete, Uliveto e dai, abbiamo una bella scelta. Per quanto riguarda la macchina, la comodità per il cliente finale è quella di non andare più ai supermercati con il carrello, fare la spesa e fare le varie file in cassa e quindi in questo macchinario la comodità è di arrivare direttamente con l'automobile, sostare, aprire il baule della propria macchina, selezionare i vari pacchi, le varie tipologie, le varie quantità, caricare nel baule, quindi attendere l'erogazione, caricare nel baule e andare via in 5 minuti e fare quello che nei supermercati, diciamo, ci impieghiamo quei 30 minuti buoni. Quindi è un metodo veloce, è un metodo nuovo che sta piacendo molto e dai, speriamo di continuare così. In questo caso però abbiamo anche capsule di caffè e pellet in scatole, quindi ci stiamo spostando anche su altri mercati. Prossimamente usciremo con una macchina per vendere, diciamo, esclusivamente vino, o esclusivamente pellet o esclusivamente comunque capsule di caffè o beverage in generale. Quindi dai, ci stiamo evolvendo, ci stiamo evolvendo e non stiamo mai fermi.